Ben arrivati, per noi è chiaro che la tecnologia è molto importante, però noi ci occuperemo soprattutto di esprimere le vostre personalità, di tradurre in immagini le vostre emozioni. Cosa credo è particolare per l'International Filmmaking Academy è che prendere le persone di tutto il mondo e mettere loro insieme, credo che è molto utile e diverso. È molto interessante meeting altre persone che studiano la stessa cosa, perché puoi capire come unico è l'experienza, è la vita che facevano con altre culture, con altre scuole. È una grande opportunità per noi di comunicare con noi, non solo per la critica di nostre lavori, ma anche per le suggerimenti del nostro futuro, per essere un film di immagini. di parlare con loro, solo per parlare con loro sui film, a volte il loro film, e a volte il film che ci guardiamo insieme. E anche se non si non si accorgi con loro, puoi sentire la certa potenza che hanno, e il tipo di potenza che ha fatto, è quello che ha fatto, è quello che ha fatto. La prima settimana abbiamo avuto il cinema Retrovato. Abbiamo visto 3 filmi a giorno e dopo parlare, è stato davvero bello. All'inizio è stato davvero bello, è stato davvero bello. È la prima volta per me adorare in un precioso film festival, perché non solo possiamo vedere i filmi, ma anche i classici filmi di tutto il mondo. Abbiamo cercato di discutere, in molti modi, il punto di vista di un film. Il film è stato davvero bello, è stato davvero bello. Il film è stato davvero bello, è stato davvero bello. Abbiamo incontrato il film di Bertolucci. Il film è stato davvero molto interessante, ed è stato davvero facile parlare con lui, di affrontare con lui, e di mostrare i nostri lavoro a lui. E' stato davvero generoso di dare feedback. Non so se loro hanno imparato qualcosa da me, io sicuramente ho imparato un po' da loro anche. Insomma, quando ci sono intorno dei giovani interessanti, noi magari un po' più grandi di età, cerchiamo di essere un po' all'altezza. E' stato bello perché erano di vari paesi del mondo, anche se c'è qualcosa di molto globalizzante, che è l'amore per il cinema. Bene. All'un po' di più. All'un po' di più. Un'altra domanda di Valdi è che bisogna studiare un film, e poi non bisogna perdere. Mi ha detto che è stato un buon lavoro davvero un buon lavoro. Mi sono davvero piaciuto che questo ragazzo ha avuto l'intenzione e l'academia di creare questo film. e ho trovato davvero generoso di dare a raggiungere i filmatori. Non ogni director può essere un buon educatore come Kirisami. Lo che mi piace è perché è veramente naturale e puoi connessione tra film e vita, poesia e art. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione!